Buongiorno. Paraskeld. Molto piacere. Salve. Buongiorno. Entriamo? Sarebbe meglio se aspettassi fuori. Facciamo un bel edere. Non c'è ancora un'assurance. Non c'è un bel edere. Sì. È per questo che bisogna fare pratica per far sì che il tuo corpo assimili la musica. Mamma, voglio avere un cane. Ne hai già uno. È il tuo violino. Jonas, vieni qui. Ti andrebbe di accompagnare Alexander? Jonas, concentrati. Dai, di nuovo. Smettila, per favore. Prendi il violino e suono. Anna, essa di fare attenzione. Tu ti rendi conto di quello che tu fai a Jonas? Non funziona abbastanza. Sei in ritardo? Ho perso l'autobus. Ai concerti nessuno ti aspetta. Ripeti? No. No. A lei sembra che non si eserciti. Perché adesso lo fa per quattro ore al giorno. Più veloce? Tac, 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 tac. Guardami. Il violino Anna è solo in una fine parte della vita. Mentre suono, penso sempre di non potercela fare. Metti giù la spalla. Continua. Più veloce. Ancora. No. 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 Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce.